L'ospedale San Raffaele si è recentemente dotato di un Gender Equality Plan o GEP che ha consentito l'oggettiva definizione dello stato dell'arte in azienda e l'individuazione di azioni utili a promuovere il cambiamento organizzativo sia per sostenere la diversità ed inclusione nelle politiche del personale che per promuovere l'adozione dell'approccio della medicina di genere nelle attività sanitarie e di ricerca. Questo compito è tutt'altro che facile considerato che l'ospedale San Raffaele è una struttura con 4.500 tra dipendenti, consulenti, collaboratori, collaboratrici a cui si aggiungono numerosissimi studenti e studentesse ed altro personale di università vita salute o di altre università identi di ricerca italiani. Il piano è stato redatto con un approccio che potremmo definire scientifico. Siamo partiti da una dettagliata analisi dello stato dell'arte raccogliendo numerosissimi dati disaggregati per genere per esempio sulle carriere, gli stipendi, sui ruoli chiavi nelle commissioni interne, nei congressi, nei prodotti della ricerca. A questo si è aggiunto il monitoraggio delle attività per la medicina di genere sia in ambito clinico che di ricerca. Questi dati sono serviti per definire alcune priorità che sono state affrontate con azioni dedicate. Il Gender Equality Plan di Ospedale San Raffaele è quindi un piano strategico che si articola in sei obiettivi generali e ben 26 obiettivi specifici da raggiungere nell'arco di due anni. Ogni obiettivo specifico prevede una serie di azioni definite da risorse, responsabilità e indicatori per il monitoraggio. Il primo obiettivo vuole raggiungere un migliore equilibrio nella presenza di uomini e donne in ospedale, con particolare riferimento ai percorsi di carriera, alle commissioni interne e ai ruoli di rilievo nei congressi. Il secondo obiettivo vuole aumentare la consapevolezza sulla parità di genere e rafforzare gli atteggiamenti positivi verso l'inclusione mediante pillole formative sugli stereotipi, rivolte a tutto il personale, ed un percorso sulla leadership inclusiva per il top management. Il terzo obiettivo vuole sostenere la prospettiva di genere nella ricerca biomedica e nella pratica clinica tramite eventi e progetti dedicati. Il quarto vuole contrastare le moleste sessuali e la violenza sulle donne mediante sia la formazione di tutto il personale su questo tema che l'offerta di una maggiore tutela con l'adozione di una consigliera di fiducia. Il quinto è dedicato al benessere individuale mediante misure di work-life balance. Il sesto ed ultimo obiettivo vuole implementare la raccolta dati per monitorare l'avanzamento del piano strategico. L'elaborazione dei dati ha consentito la definizione di un gender equality plan con obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e definiti nel tempo. GEP quindi sancisce in modo trasparente e pubblico l'interesse di Ospedale San Raffaele per la diversità e l'inclusione.